Why would I do without yours my mouth? Drown me and you kicking me out And I'm so... Datimi Shohara a X Factor, passando per Riese più decimo, lo dice lui stesso sul palco del talent show Imperfetto Italiano. D'altro canto in Italia, Leonardo Dragusin è arrivato da appena sei anni in fuga con i genitori dalla Romania messa in ginocchio dal regime di Ceausescu. Ma le sue doti di cantante nella marca erano già note e chi lo conosce bene sapeva che avrebbe dato il meglio di sé. Occhi lucidi di commozione, Skin lo chiama al tavolo della giuria, lo bacia e lo abbraccia. Il verdetto è un'anime, Leo va avanti, ma per annunciarglielo i giudici vogliono sul palco mamma Michaela. Michaela, un piacere signora. Abbiamo una cosa da dire al vostro figlio. Uno, due, tre... Sì! Grazie.